Ciao a tutte e bentornate sul canale Allora, questo look che vedete stamattina non è un trucco da molto diciamo curato, ma è un trucco proprio da 5 minuti esatti Vediamo se sono riuscita in 5 minuti esatti a fare questo trucco abbastanza comunque semplice da fare non mi sono fatta mancare nulla non mi sono fatta mancare la matita sulle sopracciglia il mascara, il kajal, il blush ho messo un lip gloss perché andare a mettere appunto un rossetto sarebbe stato ancora più da perdita di tempo perché dovevo mettere la matita insomma applicare alla meglio il rossetto e quindi avrebbe comportato più tempo vi lascio le immagini vediamo se sono riuscita in 5 minuti a fare questo trucco la mattina non la sveglia non suona siamo in forte ritardo siamo in confusione in 5 minuti possiamo realizzare un trucco mi raccomando vi lascio le immagini fatemi sapere se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollice in su e se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale vi mando un grosso bacio e ci rivediamo ai miei prossimi video ciao allora metto la mia mollettina da combattimento tutte queste macchie che vedete sono perché adesso che sta arrivando la primavera c'è più sole no? comincia la mia pelle a macchiarsi qualsiasi prevenzione io possa prendere purtroppo la io tendo a macchiarmi mi vengono lentiggini vabbè io sono un disastro metto il mio cronometro per 5 minuti adesso iniziamo primo step se avete una BB cream sarebbe molto meglio io l'ho terminata perché la BB cream fa sia da crema idratante base per trucco illuminante insomma racchiude più prodotti in un unico prodotto quindi un trucco da 5 minuti consiglierei prevalentemente una BB cream io metterò invece un fondotinta che è quello che sto usando di più in questo periodo questo della true match della L'Oreal lo passerò con le mani proprio per sbrigarmi prima possibile non metterò rossetto perché significa appunto mettere il contorno appunto la matita e fare il contorno labbra quindi applicare un rossetto quindi perderai ulteriormente più tempo sicuramente mi farà più perdere tempo fare appunto le sopracciglie cominciamo subito e via col tempo mamma mia allora mettiamo il fondotinta metto il correttore questo è di Maybelline ecco qua devo essere più veloce possibile per avere appunto più tempo per le sopracciglia ovviamente facciamo in modo che di non mettere appunto l'ombretto mettiamo la cipria questa è della puro bio della indissoluble metto con un pennello per essere appunto più sbrigativa e più omogenea ecco qua metto anche qui dove per evitare di mettere l'ombretto ecco qua ok iniziamo con le sopracciglia uso sempre la mia di Essence 3 minuti e 21 ok ovviamente cercherò di farle alla meglio ci hanno bisogno di qualcuno che le pettino alla meglio di uno specialista che faccia realmente un miracolo mamma mia qua mi sono macchiata ok mettiamo un po' di blush 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 riprendiamo il pennello di prima anzi no dovrei avere il pennello quello che uso sempre questo è della Wicon mettiamo ecco qua wow wow io amo le guanciotte stile Heidi mettiamo il mascara che ansia mettiamo questo è della Essence devo assolutamente finirlo non è male solo che non mi piace tantissimo il suo pennello mettiamo un po' in giù ok mettiamo il lip gloss questo è anche di Essence è un fucsia ora vi dico quale ok perfetto un minuto è 20 secondi abbiamo abbiamo anche il tempo per mettere un po' di cajalla io senza ok perfetto abbiamo un altro minuto risistemo le sopracciglia con un'altra matita questa è di Yves Rocher anche questa è ottima vado a ripettinarle adesso perché ormai il trucco è praticamente finito mancano 39 secondi ok 28 secondi sistemo pure i capelli e devo dire che ci siamo riuscite mancano 20 secondi e vai ci siamo riuscite dai non è male come risultato insomma per una che si è appena alzata dal letto era in ritardo quindi la sveglia non ha suonato insomma un trucco in 5 minuti è assolutamente fattibile certo le sopracciglia qua sono ecco qua abbiamo finito che bello che bello che bello sono contentissima tempo scaduto